sindaco di tutti noi, quindi di consiglieri di maggioranza ma anche di consiglieri di miglioranza. Un augurio lo voglio fare anche al Presidente del Consiglio che è eletto, l'Avvocato Di Carlo, anche lui ha un compito difficilissimo che è quello di rispettare i regolamenti e non ultimo quello di rivestire una funzione di imparzialità che è senza altro la cosa più importante. Un augurio lo voglio fare anche a tutti noi i consiglieri comunali, eletti dal popolo e quindi meritevoli di essere presenti in queste assise. E buon lavoro lo voglio fare anche agli assessori appena nominati con un decreto dal sindaco. però sindaco adesso però volevo fare un'altra considerazione. Io ritengo che in questa giunta manchi qualcosa e mi auguro che sia un qualcosa poi destinato, la cuna destinata ad essere colmata nel più breve tempo possibile. Lei sa benissimo che, perché come me ha fatto esperienza nella precedente amministrazione, questa è una fase molto delicata per il nostro Comune che ha bisogno di essere affrontata con tutte le forze che l'Ente può mettere a disposizione. Mi sono molto meravigliato nel non aver visto in una fase in cui siamo in una situazione di dissetto finanziario un assessore al bilancio con delega anche ovviamente alle finanze dei tributi. Perché il dissetto comporta tempi anche molto stringenti. Credo che tutti sappiate che questa nostra convocazione è stata dovuta anche al fatto che entro il 27 bisogna dare delle risposte a dirighieri fatti dal MEF circa il bilancio stabilmente equilibrato che abbiamo approvato non più tardi del mese di fine giugno, se non ricordo male i primi di luglio. Quindi Sindaco, io le invito, e per il momento ovviamente rimane un invito che speriamo possa essere da lei colto nel più breve tempo possibile, a nominare un assessore al bilancio, a nominare una persona che si prenda carico direttamente di quella situazione, perché è una situazione veramente delicata, complessa, ha bisogno di qualcuno che si dedichi specificatamente a quella questione. Non, come dire, prenda su di sé tutto il peso di una situazione così grave.